E comunque il girone della razza era questo Poi dopo parliamo anche Secondo me non è mai successa Nella storia una roba del genere Roba del genere Sono convinto Vero Non è fallo Non è fallo perché Perché è Patrick È Patrick A impedire a Provvedel Di prendere la palla Patrick difensore scadente Come ha sempre detto anche Damiano Va su Provvedel E gli va addosso Provvedel poi fa una papera Perde il pallone E il giocatore del Feyenoord Deve solamente depositare Il pallone in porta Il contatto non è irregolare Perché tu devi evolutare l'identità Quella spinta potrebbe essere molto forte O semplicemente un appoggio Tu non lo puoi sapere Quindi non è fallo Tu hai un appoggio Ma capisci che Guarda No scusami Erics Questa è giustamente La teoria Della chat Questa è la teoria Questa è la teoria Del regolamento Poi Mi espongo Vada avanti Gabbaronne Patrick È più forte Ed Eder Militao Eder Militao Non dovrebbe entrare in campo Manco con Bietto Che ignoranza Vabbè adesso Quello secondo Cui secondo me Quello su cui secondo me Bisogna concentrarsi Cioè guarda Gli va dosso È il cambio di direzione Di Patrick Guarda il Manuka Guarda proprio Ecco Dov'è il maledetto Dov'è il maledetto Che lo voglio vedere Poi si può parlare Guarda il cambio di direzione Di Patrick Luca Guarda quello Secondo me lì bisogna concentrarsi Patrick va dritto per dritto Senza la spintarella Che voi chiamate spintarella Del giocatore del Feyenoord Patrick Non andrebbe mai Adosso a Provvedel Il giocatore lo spinge No Patrick con il ginocchio Va sulla spalla di Provvedel Guarda È uno spalla È uno spalla a spalla Guarda È uno spalla a spalla Prima Ma come fa È uno spalla a spalla Se lo vedi da dietro Se lo vedi da dietro Guarda adesso Guarda adesso Guarda adesso È uno spalla a spalla Guarda le mani No ragazzi No le appoggia solamente Ti dico Dal regolamento E ti darà così Se è corretto Ti darà così anche Damiano Dal regolamento È uno spalla a spalla E attenzione Perché proprio Nunzio Regala 5 abbonamenti Così Bravo Nunzio Sì perché voglio vedere Voglio vedere In cacca Ancora più gente Capito Perché adesso Il discorso è interessante Specialmente se parla a Ortelli Mi scusi Ortelli Però Ogni volta Io quando guardo Ocv È affascinante Sentirla Da Juventino Ah sì ma io Io comunque Andro Ho scommesso tutto Sulla bet Tutto Ho messo tutto Tutto ho messo Tutto il mio patrimonio Scommesso Quindi vedete di arrivare A 70 sub Comunque raga Adesso Al di là del rigore Non rigore Come stavo dicendo prima Cioè Incredibile Incredibile Ma io vi dico la verità Secondo me La colpa ragazzi È di Sardi Cioè La Lazio Non è che la perde oggi Perché oggi comunque Il Feyenoord È l'unica squadra Insomma Che conosco Tra l'altro In questo girone Che conoscevo Cioè Bet Andre Cos'è? Adesso la pago subito Ragazzi Dice la vuoi pagare te? C'è il Feyenoord Anche Chiedo Chiedo chat Possiamo dire Che la Lazio Ha fallito Il primo obiettivo Stagionale? Purtroppo sì Purtroppo sì 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 Ve le metto a 90 Oddio Aspetta Vi metto le Cioè le Sabba a 90 Cioè io dico Secondo me ragazzi Con un girone del genere Cioè chi è che non può Cioè la Lazio non è che Era alla portata Di più Cioè non è che perde oggi Sì 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 No no Sono d'accordo Sono d'accordo Però Andre C'è anche da dire Che secondo me Tante squadre Hanno reso meglio Di quanto ci si aspettasse Perché comunque Il Midilland Per me è una squadra Che ha dimostrato Di poter giocarsi La competizione Cioè secondo me Il Midilland Non è una squadra scarsa Contro il Midilland Dai la Lazio Devi passare Guarda che gironi Sono d'accordo Sono d'accordissimo Però il Midilland Le sue vittorie Le ha fatte Per me la più scarsa La Lazio Come ha fatto 8 punti Andiamo in ordine Per me la più scarsa In assoluto Era lo Sturungraz Secondo me La Lazio La prima giornata Batte in casa al Feyenoord E fa il suo dovere Alla seconda giornata La Lazio Perde 5 a 1 Con il Midilland E già butti via La qualificazione Aspetta che abbiamo Le parole di Marelli Se vuoi andare intanto A vedere errori arbitrali Comunque Marelli dice Gol Feyenoord Il primo contrasto Non è mai fallo È solamente un contrasto Dopo succede Che Provedere Resta a terra Dopo un contrasto Con il suo compagno Patrick Il contrasto Fra il difensore Bianco Celeste L'attaccante olandese È regolare E spalla contro spalla Dopodiché Da regolamento Il gol è regolare Perché Imenes Tira subito in porta Espulsione di Romero È invece Un'ingenuità del giocatore Un peccato di gioventù Tra l'altro Grazie Marelli C'è un fallo raga Su Ziliski Stasera che Dopo ne parliamo Allucinante Ziliski Ah Zaleski Zaleski Mamma mia Mamma mia La galera Orribile Stai parlando del rosso Sì Ma secondo te Volontario Io l'ho guardato Molto bene Dopo ne parliamo Ma secondo voi Lasciali la gamba Luca Attenzione perché Io ho visto lui Che cerca quasi Di evitare la faccia Di allungare la falcata Per evitarlo Lui che cade molto in là E lo colpisce Secondo me lascia la gamba È giusto dare il rosso Ma secondo me Non è volontario Non lo so Io vedo che lascia la gamba Cioè lì Lì Luca Un giocatore intelligente La gamba piega Cade Fa qualcosa altro I calpesti il collo Ti giro Dopo ci andiamo Per favore Un attimo Capito Capito Allora Sarri Sarri L'arbitro Avrebbe fatto innervosire Anche padre Pio Ci hanno trattati malissimo Fossi il presidente Non andrei nemmeno A giocare la conference E questo è quello Che dicevo Ennesima caduta Di stile di Maurizio Sarri Che si fa vedere Come un allenatore mediocre Quale è Sarri non ha mai saputo Sarri non ha mai saputo Di una conferenza stampa E mai ne sarà in grado La Lazio deve capire Che il suo primo problema È Maurizio Sarri Perché la Lazio gioca bene Perché ha giocatori Di grande qualità Oggi Perde la qualificazione Anche perché Manga sicuramente Il giro immobile Ma non è oggi Il problema È la partita col mici Ciland La partita pareggiata Con lo Stum Graz Non so neanche dirlo Ma il primo problema Della Lazio È Maurizio Sarri Perché queste dichiarazioni Rompono lo spogliatoio Queste dichiarazioni Condannano la Lazio Ogni volta A dover rispondere Sul campo Quali sono stati Non d'accordo No ragazzi Non si può dire Che il problema Della Lazio Sia Sarri Perché Sarri Ha risieduto Finalmente Alla Lazio È un gioco discreto Il problema è che Sarri non sa comunicare Ragazzi Sarri avrebbe bisogno Di una persona Che li insegna a comunicare Perché a livello sportivo È oggettivamente Molto bravo Ma a livello comunicativo Ragazzi È una roba Vergognosa Fa più danni Della grande Fa me dire una cosa Andres Su questa azione Qui non è Cancellieri Che sbaglia Qui è Anderson Che sbaglia Che se rallenta troppo Doveva andare in porta Lui rallenta troppo Dalla palla a Cancellieri Dicendo To Amore mio Fai tu E lui poi Comunque se la cava molto bene Ma qui Anderson Doveva andare in porta Era da solo Era uno contro uno Doveva andare in porta Cazzo qui va in porta Appunto il portiere Ah qua 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 Minchia Non ha avuto la forza Nelle gambe Sì Sembra quasi Che si molla lì Un'azione così Me la posso aspettare Al novantesimo Vero Non date la colpa Cancellieri Che fa una partita Sontuosa Per la sua età Per il giocatore Che è Qui è Anderson Che sbaglia Scusate un secondo Perché a difendere La Lazio Certo che difendere Difendere È tosta Andre Difendere Difendere è brutta No Non c'è da difendere niente C'è da C'è da vergognarsi Perché Ricorderai molto bene All'inizio No Di Di questa Europa League Quanto io fossi Netto Nel dire che la Lazio Dovesse vincere tutte le partite Del girone E che fosse Un Un girone Assolutamente A ribasso A livello qualitativo Evidentemente Abbiamo sbagliato qualcosa Nelle valutazioni Però Da qui Ad arrivare tutte A otto punti Per me È qualcosa di vergognoso Non credo che ci sia Troppo da girarsi Tu dici Dani Come dicevamo noi Prima Che non è che Stasera Era un po' L'unica partita Che insomma Potevi perdere Paradossalmente Rispetto alle altre Prima guardavamo Il girone Era la partita Più difficile Del girone La partita Più difficile Ma non per cui 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 Addirittura Scusa Ci vediamo domenica Insuccio Ci vediamo domenica Insuccio Domenica Dicevi Dicevi Dani No dicevo che Se guardiamo anche La partita d'andata Il Feyenoord Non è questa squadra Che faccia Paura Quindi Per me Non c'è niente Assolutamente da dire Anche sulla partita Di questa sera La Lazio Ha avuto le sue occasioni Non è riuscito A concretizzarle Il Feyenoord Fa una partita Ordinata Pulita Ma niente Di effezionare Troppa differenza Tra le due squadre Non mi sento Variare No perché Gli manca Damiano Dani Allora fanno così Dani ma secondo te La Lazio C'aveva già la testa Al derby Perché quello Che gli è stato accusato Insomma anche No Andre No Andre Non la voglio sentire Una cosa del genere Perché Sai Fosse stata L'ultima partita Che sbagli Allora ci può pure stare No? Dici ok La testa Magari Qualche scoria Della partita Contro la Salernitana Per quel Gialla Mirinkovic Che la squadra Non ha digerito Sarri che non è riuscita A trasmettere La giusta serenità Anche perché Ieri in conferenza Ha detto di essere Ancora incazzato Per quell'episodio L'ingiustizia Della UEFA Che non fa giocare Il Feyenoord O meglio Della federazione olandese Che non fa giocare Il Feyenoord Della partita Di campionato Ma Sarebbe appunto L'eccezione E invece La Lazio Fa due vittorie In questo girone Fa due vittorie Due pareggi Due sconfitte Ma di che parliamo? Feyenoord Zoom un po' Sturm Graz Midtjulland Ma di che stiamo parlando? Non può essere Capito La La regola E qui invece È diventato la regola È diventata la normalità Vedere la partita Di oggi La Lazio perde 1-0 Col Feyenoord È quasi normale Per quello che è stato L'andamento del girone Non è possibile Adesso al di là Delle parole Questa è la normalità Al di là delle parole Diciamo di questo Opinionista di Twitter Secondo te ha sbagliato qualcosa A livello di cambi Oggi Avresti fatto delle scelte diverse? Ma onestamente Queste erano le scelte Che mi aspettavo E difficilmente Penso Che potessero giocare Altri calciatori Ma la Lazio Ti ripeto Ha avuto le sue occasioni Il problema È che Una volta di più In questa stagione La Lazio dimostra Di essere monocorde Non sa interpretare le partite Sa giocare soltanto in un modo E non sa uscire Da quello che è il suo modo Di interpretare la sfida Se gioca alla grande Fa paura a tutte Domina il gioco Ma appena si abbassano i ritmi Devi subito andare in difficoltà E non è possibile Una squadra Che vuole essere grande E che oggi Poteva tranquillamente Accontentarsi Tra virgolette Del pareggio E si può uscire Dal decuip Col pareggio Perché stiamo parlando Di una squadra Assolutamente umile Come il Peinord Che penso che A livello italiano Corrisponda più o meno Al Sassuolo Puoi tranquillamente Uscirci Da quello stadio Col pareggio Ti sarebbe bastato E invece tu perdi 1-0 Con delle Con delle Con delle recriminazioni Gigantesche Complimenti Dani Anche Non per la faccia Ma anche perché Non hai parlato del rigore Ne ha parlato Marelli Ma prima Sì C'è del rigore Scusami Del gol Non so perché dico rigore Ragazzi Hai capito Del gol del Feyenold Anche prima Mi sono espresso Non ho niente da dire Sull'episodio Non ho niente Da dire sull'episodio Per me Ci sono tanti errori Dei calciatori della Lazio Poi si può valutare Se la spallata Di Gimenez A Patrick Sia un contrasto Regolare di gioco Vada a contendere In modo onesto Il pallone O cerchi di fare pallo Io intanto Prima esigo Dai calciatori Della Lazio La perfezione Lo faccio rivedere Poi se i calciatori Poi se i calciatori Della Lazio Fanno il meglio E un calciatore avversario Si approfitta Della situazione Commettendo un fallo Sono il primo A urlare allo scandalo Ma qui qual è il fallo? Spiegatemi qual è il fallo Qui Io qui il fallo Onestamente non lo vedo Io Dani Qui lo vedo Proprio su quest'ultimo Su quest'ultima parte Qui Quando le due mani Del giocatore Del Feyenold Si appoggiano Entrambe Sulla spalla di Patrick Sbilanciandolo Palesemente addosso A Provedere Io qui vedo il fallo Da quest'altra Angolazione C'è diciamo Più malizia Ma secondo me Ti assicuro Che Secondo me Patrick Non cade Per quell'episodio Capito? Cioè nel senso Lo spalla contro spalla È onesto Poi si Lui allunga le braccia Possiamo Parlare Un'ora Comunque Provedere Fanno uscita di merda Raga Oggettivo Provedere l'imbalanza Ma qui è colpa Qui è colpa Di Patrick Di Provedere Secondo me Non è fallo E il gollo Deve non volere Giusto come sia Poi si può dire Che la Lazio Meritava Che la Lazio Ha fatto molto meglio Del Feyenoord Tutta la vita Mi dispiace Da anni Che siete usciti Anche perché Io ho visto La stessa situazione Ieri Inbecile Inutile Che tu ridi Imbecile Inutile Che ridi Conducente No Io non sto Non sto Vedendo 15 anni Fonico Sei un fonico Ti vedo più giovane Di 15 anni Vuole parlare Della partita Se volete Qual è il problema La partita Che punisce Oltremoto La Lazio Che però È vittima Dei suoi errori Delle sue Amnesie Che le sono costate Sia in questa partita Ma soprattutto In altre La qualificazione Al prossimo turno Di Europa League Un girone Un girone Che è stato Buttato Nel cesso Per Dei 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 calciatori Del tecnico Di tutti quanti E che sono stati errori Che non ti puoi permettere A questo livello Poi Ripetuto Ripetuto Ma infatti Se io dico errori Significa che non è solo uno Quindi è chiaro che sono di più Ti sei Sei stato costretto Ad arrivare All'ultima gara E l'ultima gara È stata decisa Dall'ennesimo Episodio negativo Da parte tua E da Tanti errori Che tu non sei riuscito A portare Dal tuo favore Perché poi Il Fenor Ne aveva commessi Tanti E tu però Non sei mai riuscito A fare Diciamo Quello che loro hanno fatto Nell'unica occasione Ecco In una delle poche occasioni È una sconfitta E come c'era Già Grazie mille Gallus Grazie mille Ma che cazzo è questa No comunque Complimenti ad Augusto Per l'esame Per favore Non evidenzi dei messaggi Fuori controllo Che qui si creano Dei casi diplomatici No ma che Arbi Arbi che mi ha detto Di mettere una cosa Scusa Se sei stato interrotto E complimenti Comunque per l'onestà Ma io Penso di essere sempre onesto Quindi non solo questa volta Quindi penso I complimenti Si però attirata almeno Colpa Augu Più colpa Dei giocatori O più colpa di Sardi Che è un po' O più colpa anche Dell'arbitro Perché c'è anche Chi va In quel verso lì Ma no Dell'arbitraggio È inutile parlarne Perché io credo Che poi Se arrivi a certi livelli Ti devi aspettare Determinati tipi Di interpretazione In questi stati Io credo Che tu devi essere Più intelligente Capire prima Cosa stai vivendo E come sta arbitrando L'arbitro E prevenire certe cose Secondo me Sono stati commessi Errori Molti Di Felipe Anderson Di Cancellieri Ci sono un sacco Di situazioni Oggi Milinkovic Non è sceso in campo Quindi stiamo parlando Di una presentazione Che seppur Ma io Ti dico Che secondo me Il primo tempo Invece la razza Ragazzi Io lo dicevo Prima che entravate voi No ma è vero Secondo me non ci hanno capito Un cazzo A un certo punto E dopo Vi manca il bomb No ma è chiaro Che comunque Senza Immobile Tu magari Quelle quattro occasioni Non l'avresti fallita Però devi capire Che non può Proprio perché Ti manca Immobile Non puoi commettere Al terribili errori In queste situazioni Sarri secondo me Sbaglia Sbaglia Perché poi I cambi Non hanno portato Nulla di nuovo Anzi hanno peggiorato La situazione Di una squadra Che fino a quel momento Non stava giocando male Ma aveva subito Un gol Su un episodio Da quando ci sono stati i cambi Poi la squadra Si è incupita Su se stessa E poi È chiaro Che l'allenatore Deve comunque Cambiare anche Quella che è un po' L'attitudine di certi calciatori A sparire Nei momenti In cui invece Dovrebbero apparire Cioè Quando serve Alcuni calciatori E poi Onestamente Se dovessi trovare Una cosa che sbaglia Sarri Il cambio di Zaccagni Per cancellieri Perché poi Da cancellieri Un minuto dopo Perde quel pallone Da cui nasce il gol Di Gimenez Se avesse cambiato Cancellieri Che secondo me Meritava di uscire E avesse messo Pedro Su quel pallone Avremmo avuto Un giocatore diverso E forse la palla Non l'avrebbe perso Ciao 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 Grazie 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 Faze Dove sei? E ora Faze comincerà Con i suoi audio Perché purtroppo Ha perso Inesorabilmente Lo scontro qui Che vorrei ricordarlo Faze È rimasto solo Di spendere 100 euro Perché dal vivo Qui Hai perso Lo scontro Dialettico E ti ripeto Che Gli audio Di Enzuccio Credimi Non mi toccano Proprio Fai guadagnare Solo pancio E a me Non mi tocchi Proprio Sei venuto In live Hai perso Lo scontro No È venuto in live Frate Non è riuscito A controbattere Su un punto Diceva Frasi fatte Spendi sti 100 euro Se ti divertono Per me Gli mani in cretinetto No Ascoltavo Ascoltavo La desamina D'Agosto Sono Condivido L'analisi L'analisi Calcistica Però non condivido L'analisi arbitrale Mi dispiace D'Agosto Quello è fallo Tutta la vita Perché Al netto Aspetta 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 Però aspetta Fammi parlare Hai parlato tre ore Aspetta Aspetta Non ho parlato Dell'arbitro Aspetta Aspetta Tu hai detto No perché Certi episodi Arbitrali Devi aspettare Ma che cazzo Stai a dire Ma io che me devo aspettare Io me devo aspettare Un arbitraggio Seglio In una competizione Seglia Che cazzo dici Scusami Perdonami Questo è fallo Tutta la vita Patrick Guarda che spinta Che gli dà Con le due mani Appoggiate Adesso ragazzi Non è perché Non gliel'hanno Non è perché Non gliel'hanno Fischiato a Messias Adesso vuol dire Che va bene Fa sta roba Questo è fallo Un episodio Un episodio molto Molto dubbio Non so se lo avete Voi al bot Caro Andrea Forse valla recuperare Ok Se lo avete Guardatelo Dove Pedro viene ammonito Scusami ragazzi Per mandarci le cose al bot Punto esclamativo Fucina Lì c'è il bot All'interno Ci mandate le cose Le facciamo vedere in live Dove Dove Pedro viene ammonito Per simulazione Adesso io non dico Che sia calcio di rigore Ma c'è un contatto Qualcuno dovrebbe spiegare A questi signori Che essendo un gioco Di contatto Può darsi pure Che non è rigore E che i due Si siano scontrati Non è per forza Che o è rigore O è simulazione Quello è un altro errore Gravissimo A mia veduta Detto questo L'analisi calcistica Che fa Augusto Io non ho sentito Daniele Ma penso che più o meno Sarà questa Perché io ho sentito Anche altri Altri esponenti Giornalisti Del mondo laziale Più o meno La pensiamo Tutti uguali Io direi Semplicemente Solo una cosa Un signore Che fa le live Fa l'opinionista Da anni Su questo social Due settimane fa Disse che immobile La Lazio senza immobile Giocava meglio Cazzata Più grossa Non è mai stata detta Perché quando ti manca E lo dicevano Daniele Daniele Lo dissero anche i tifosi Della Roma In questa live Dissero Signori Si pone l'epise Non vado errato Lo disse E anche Falcao Lo disse Disse che se tu perdi Un uomo che ti fa Più di 30 gol A stagione E prima o poi Un problema Te lo ritrovi Speravamo tutti Con noi stessi Che il problema Non si ponesse mai Ma sicuramente E invece gioco Tutto quello Che c'ho addosso Che se oggi Ci fosse stato Ciro immobile Quelle occasioni Tu non l'avresti mai Sbagliato Però dammi Secondo me è facile Dirlo adesso Ti voglio bene Ma non è che è facile No Enerix Io dissi Che il 2-0 Dell'Atalanta Quella persona Disse La Lazio gioca meglio Senza Immobile Io dissi Guardate che se c'era Immobile Oggi in campo Finiva 5-0 Per la Lazio Eravamo tutti d'accordo Sul fatto che quella Fosse la miglior prestazione Stagione Ogni tanto Datemi una mano A fare il counter Del super gol Per favore Che siete un po' Troppo dipendenti Che siete un po' Sì Sì Caro Luca Dici una cosa intelligente Forse per la prima volta Stai crescendo Grazie È dipendente da Immobile Sì Sì perché Io lo continuo a ripetere La Lazio La società Lazio Sbaglia a non prendere Un secondo attaccante Però qualcuno Veramente mi dovrebbe Far capire C'è arrivato C'è arrivato al bot Dami Eccolo Grazie Grazie Scusate però Mi dite Dite Queste sono le battute Di merda Di Pascio No No Le battute Stiamo finendo Parlando di Lazio Al volo Parlando degli assenti Di oggi Col Feyenoord E l'arbitro Lo trovo un po' Riduttivo Cioè la Lazio Perché stiamo parlando Della Lazio Sì Era più forte del girone Forse era un po' Più equilibrato Rispetto alla Roma Però non avevano il Betis Comunque era un livello Superiore rispetto Al Feyenoord E comunque è grave Che tu arrivi All'ultima giornata Lì a giocarti Tutti il giovedì A dire Da agosto La Coppa L'Europa League È un problema Gli allenamenti Gli schemi Quindi L'ho detto anche All'altra diretta Faremo la Coppa No il Berlusconi Ma il trofeo Lo dito Che si gioca Buonasera Seba Stava finendo Enrico Scusa Quindi no Trovo assurdo Troppe giustificazioni La Lazio doveva Passare per prima Non l'ha fatto Ci è stato detto Quest'estate Che il cancellieri Era un centravanti E Sarri oggi Senza centravanti Mette i cancellieri Alla destra Quindi voglio dire Che ha fatto il mister In campionato Sta facendo un benigno In Coppa È stato un disastro Totale E sugli infortuni E finisco È vero che la Lazio Gli mancava immobile Ma come dire La Roma gli manca immobile Di Bale E Wenadume Da tanto tempo Che discorso è Infortuni ce l'hanno tutti Non ho capito Che c'entra Cancellieri Con Scusa Sarri con Cancellieri No Lui aveva detto Che poteva fare Il centravanti Lo ricordi Poi a un certo punto Oggi che poteva Faglielo fare Lui non aveva alternative Non avendogli comprato nessuno No C'è stato detto Dalla Lazio Che anche Ma dalla Lazio No da Sarri Tu fai confusione Ah ok Quindi Quindi Sarri Lo voleva al centravanti Quindi chi ci ha detto questo È un Ma scusa Ma perché non avrebbe Ma perché nelle secondate Perché non avrebbe voluto Il centravanti Sarri Ma guarda L'ha detto Così c'è stato detto Ma l'ha detto Però Tu fai giornalista Dovresti ascoltarti Le conferenze Sarri No vedo Vedo un'ironia Da parte di Rocca Ma scusa Questa cosa D'ha meno amato però Rocca Rocca Perché ti sorrideva così Nei confronti di Camelio Per quel c'è stato detto No perché c'è stato detto C'è stato detto Non capivo No ma lui è così Hanno detto Ma non fate cacciare adesso Su questa cosa qui Ma io faccio Allora Rimango qua Allora Sarri due settimane fa Ti ha detto In una conferenza stampa Ti ha detto Abbiamo fatto la campagna acquisti Sono finiti i soldi Scusami Non ha mai detto Che lui che vedeva Cancellare i centravanti Mi stai dicendo No te la vado a prendere No è un ragazzo Che deve fare un progresso Il processo di Ma vedete un po' di notizie Si può adattare Come centravanti Ma ancora in questo momento Non è pronto Damiano però su questo Dammi una mano Perché insomma Anche lui c'ha queste informazioni Damiano o no Io non ho queste informazioni Non l'ho detto Le informazioni che hai Sono pure editore C'è tre televizioni Nazionali Quindi non obbligo Faccio quello che cazzo Mi vale Io quello Grazie Bellissimo quest'anno Andre Tutto il momento Per salutarti Io posso solo dire una cosa Su questo che dice Enrico Camelio Che se Sarri Pensava minimamente Adesso io non lo so Che Cancellieri Non fosse adatto Si doveva imporre Con la società Però l'errore grave Però l'errore grave È stato della società Nel non prendere un attaccante Perché anche qualora Sarri Non lo so Anche qualora Sarri Avesse detto Ok mi va bene Cancellieri La società in questo caso Secondo me Sbaglia Come quando parlammo di Simone Inzaghi Vi ricordate no? Simone Inzaghi Marotta E il fatto di Correa Il fatto di Dybala Un po' di tempo fa Che uscì sulla cazzetta No? Perfetto Detto questo Per me È un errore Di tutti A me Se l'ha fatto Sarri Enrico L'ha fatto la società Non me ne frega un cazzo È un errore E non si possono Per me Almeno io Personalmente Non li accetto Eh diciamolo A me Io non è che so Sarriista O Lo Titiano Io so Da Alassio Punto Dammi ti dico C'è questo articolo Della cazzetta Che dice appunto Che nelle idee di Sarri Perfetto Enrico Allora Da valore a quello Che ti dico Che hai Ma lo capisci Italiano Lo capisci L'italiano Quando te parlo Ed è lì Che dovrebbe utilizzarlo Sarri Che ha chiesto Un giocatore Di movimento Come alternativa Immobile Perfetto La società Come ti ho detto prima Ho ragione Oh hai ragione Aspetta un attimo Ma me fai parlare Ho detto adesso Ti ho detto La società Se fosse vero Questo che leggo È un errore Grave Della società Che comunque Non lo prende Però Perfetto Enrico Perdonami Dammi Però non si può Fare una cosa Non si può Prendere un articolo Che è un'opinione Di un collega Infatti ho detto Qualora fosse vero Agusto Enrico Un attimo Daniele Un attimo ragazzi Daniele Perché Enrico Deve imparare una cosa Che se uno Dà un'opinione Ed è la carzetta Dallo sport Non è la verità Tu devi prendere Un virgolettato Di Sarri Devi prendere Un virgolettato Di Sarri Dove dice Cancellieri In centravanti Lo volevo io Io non l'ho mai sentito Vabbè Nessun allenatore Dice queste cose Un attimo ragazzi Dani 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 Stefano Però c'eri pure tu St'estate Su Ma Abbi pazienza Stavano parlate Cancellieri Ma la Lazio Ci bastava Per passare Stavano il girone Non hanno ancora Stavano ancora Attaccarsi Manca immobile C'è i Savic Che il giocatore Che il 98% Da Lazio Ti stavano lamentare Che per passare Stavano il girone Ti serviva immobile Ma chi sei lamentato Colfrescari Stavano ancora Attaccarsi E quello Deve fare Esterse E lamentare Aspetta 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 Se spiega Stronerie Capito Stiti E' una disfaccia Oggi Probabilmente Aspetta Fammi finire Il discorso è questo È semplice Questa Lazio Bastava e avanzava Per passare Questo girone L'anno scorso Mi era stato detto Che era la nostra dimensione Probabilmente La Lazio non ha La dimensione Della Europa League Perché questa sera In definitiva Va a fare la conferenza Che è la sua dimensione Questo dice il girone Punto Adesso la tua dimensione Adesso la tua dimensione è questa Vai a farti la cosa Ma tu non l'hai sentito Quello che ho detto Tu non l'hai sentito Adesso voglio che la vinci La Coppa al trofeo Com'era Amitropa Cup La Coppa del nonno Il trofeo a Berlusconi Adesso valla a vincere Ma la cosa bella È che ti vedo ringalluzzito Da questa cosa La competizione È una competizione Mediocre La faccio alla Lazio La faccio alla Roma La faccio al Manchester È una competizione Tecnicamente mediocre E quello che voi Non avete capito È che la critica Alla Conference League Non è una critica Alla Roma A chi la partecipa È una critica A quello che avete creato Voi dietro Questa Coppa Cioè per voi Siamo solo festeggiata Perché abbiamo vinto Giustamente Una sorta di rivincita morale Per tutta la Vagonata di merda Che avete ingogliato Negli anni Vedendoci a noi festeggiati No semplicemente Voi avete festeggiato E avete dato Una connotazione Una coppa Dopo 14 anni 13 Quindi che storia Non vincevi Ma indubbiamente La vinciamo e la alziamo Era la nostra dimensione Era la nostra dimensione Car gusto Tutti i monologhi Che ti ho detto Che ti ho detto Che ti ho detto Che ti ho detto Era la nostra dimensione A quanto pare Questo nasce Per l'Europa League Non va bene Nella dimensione La conference Adesso Nella tua metodità Adesso Ti devi dimostrare Che questa Coppa Nella tua metodità La lascia è la più forte Adesso Questo l'hai detto Questo l'hai detto Questo l'hai detto Avrei preferito L'hai detto L'hai detto Al quarto posto Dani L'hai detto L'hai detto L'hai detto Ma questo Io le cose Te riconosco Non te sono solo attaccato Io te riconosco Quei cose Però mi ricordo Io mi ricordo E chiudo E faccio parlare Ovviamente Tutti gli altri Daniele Che se siamo parlati sopra Parla Daniele Poi Mi avevi detto È la vostra Dimensione Perfetto Adesso È la vostra Dimensione È una coppa L'hai detto L'hai detto Ma no Non la devo vincere Ma io non la devo vincere Perché No non la devi vincere Partecipi Giusto partecipi Perché ci devi stare E no come Hai detto che era facile No Ma devi vincere Scusami È facile Ami troppa cappe Adesso Immobile Salice La squadra Ce l'hai È una delle più forti In conference Valla a vincere Eh sì Ma perdonami Ma mi spieghi Qual è la motivazione Perché io devo vincere la conference Perché l'hai vinta tu L'anno scorso No perché l'hai fatto denigrata L'hai fatto passare Come il cestello Dalla frutta Adesso Se sei una squadra È una delle più forti La devi andare a vincere E sei una squadra Rocca Rocca Per favore Au Au No no Facciamo che vinci la Coppa Italia Contro te me Se ci riesci Facciamo che facciamo un'altra finale Io e te la vinci tu Allora Ora si sta a fare Di Coppa Europei Scusami Queste le parole di Salvi Ragazzi C'è una Vabbè Ok C'è un po' Prego Dani È bloccato Oh Dani Ti vediamo Comunque prima stavamo leggendo le parole di Salvi Ragazzi non so se le possiamo recuperare Enrix In realtà Augu Sarri diceva Metteva già le mani avanti Non vorrei sbagliarmi Dicendo che È meglio uscire a sto punto Dalla Coppa Una roba del genere Ah sì Aspetta te le trovo No no Te le faccio leggere Aveva sentito dichiarazioni Aveva consigliato All'ottito Di non giocare la conferenza Non so se fossero Dicharazioni reali Eccolo eccolo eccola Ce l'abbiamo Andre Ma se vuoi Non dice quello che c'era scritto Non pare la conferenza È stupido Aspetta te le facciano le parole Le parole che ce ne sentiamo No ma c'è Vedo Ma c'è il video Ok eccolo eccolo qua Ci teniamo è chiaro Poi il nostro girone è un girone Che andrà a finire come girone Champions del Tottenhamieri Tottenham Questa è un prima Questa è un prima Sì Queste sono un pre partito da Andre Ok Ragazzi ci sono Voi andate su un canale YouTube molto bello Sì Sky Sport Che è lo bianco celesti C'è la conferenza stampa di Sarri Ho capito Ma non è che me la posso vedere tutta La conferenza stampa di Sarri Porca puttana Ho capito Avete cagato il cazzo Ma voi Mi prendi quelle parole di prima Sì sì L'ho tolto L'ho tolto Tra un paio di turni vedremo se è bella Non avrei dubbi su queste cose La mia sensazione è che non siamo pronti Per giocare due competizioni di alto livello Per struttura materiale e mentale C'è gente che si ricarica in 70 ore E gente che non ce la fa E ha bisogno di più tempo Poi con l'abitudine Qualche giocatore Assimila queste capacità Ma non è facile A volte è questione di cilindrata mentale A livello di organico è chiaro Ci manchi qualcosa In alcuni settori possiamo rinunciare a qualcuno E tu non hai fatto nemmeno una views Della mio video Sei un cesso Cioè io ti ho fatto guadagnare più soldi Con quel cesso di fuzze Che ti dava i soldi E tu manco la views al mio video Sei un cesso Posso chiedere Adesso te lo vedi 8 minuti E ti vedi tutta la pubblicità Cesso Posso chiedere a Lazio Se tutti trovano corretto Che quando Sarri esce dall'Europa League Che comincia a dire la mentalità La rosa corta No dillo oggi non va bene caro mister Tu lo dici a settembre Dillo oggi non è corretto È troppo facile Eh no è troppo facile Eh vabbè Ma dai Ma tu non senti le conferenze Vabbè dai Augusto Però basta insegnarmi le cose Cioè tu Fai il tuo lavoro Che faccio il mio Ti sta bene quello che ha detto? Ti sta bene quello che ha detto Sarri oggi? No allora aspetta Che mi sta bene Non ha troppo Eh allora L'ha detto o non l'ha detto Oggi l'ha detto tre settimane fa È uguale Lo dici a settembre Allora non l'hai ascoltato tu Lo dici a settembre Adesso non va più bene Io Come già ho detto Come già ho detto A me Le esternazioni In alcune situazioni Prima di una partita Di Europa League Del mister Non mi sono piaciute Non è che non mi sono piaciute È anche giusto il pensiero Cioè mi trova totalmente concorde Non le avrei dette In conferenza stampa Questo sì Me la sei No 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 Chiaro Ma già l'ho espresso il mio pensiero E io dissi che Forse me le sarei tenute per me E per la squadra Non le avrei mai dette In conferenza stampa Cosicché magari il calciatore Poi ripeto Quello che mi dicono Chi vive uno spogliatoio Può comunque anche i più giovani Giovani Risentirne magari di certe parole E di non dare il peso giusto A una competizione Ho visto Due Lazio Fondamentalmente Io in questa prima parte De stagione Ho visto una squadra Molto buona Anzi In certi punti Anche top In campionato Tolto la debacle Che abbiamo avuto domenica Contro Contro la Salle Ho visto una squadra Una squadra top E ho visto una squadra Troppo altalenante In Europa League In un girone Che è vero Che dovevi passare Per primo Arrivi terzo Con tutti appaiati A otto punti E non era mai successo Nella storia di Europa League Tutti appaiati A otto punti Purtroppo Arrivi terzo Si andrà a fare Un'altra competizione La Conference League Che sicuramente Non sarà La Champions Non sarà L'Europa League Ma io spero Perché sono Difoso della Lazio Perché vorrei Sempre vedere La mia squadra Vincere Che questa competizione Venga fatta Come Cristo comanda Punto Ragazzi Un attimo Ci sono delle parole Ci sono delle parole Importantissime Di Mourinho Sulla Lazio Lascia un attimo Pronti La sta Pugnando Per me la Lazio È la favorita Per la Conference League Attenzione José Mourinho Il re Del marketing The king Of content Jose Alejandro Mourinho Ma che altro Dami secondo me Quello che diceva Prima Mamma mia Che mina Mamma mia Che mina Cioè avete preso In giro tanto la Roma Perché era una competizione Facile da vincere Adesso deve essere Uno stimolo Dami però Io non ho mai preso In giro i tifosi Romanisti L'ho detto qua C'era presente anche Asso la vittoria Quando hanno vinto La Conference Io ho sempre detto Che il tifoso Giustissimo Che festeggia Ogni cosa Che vince Io non ho mai detto Questo Io ho sempre detto Che la Conference League Non era Una competizione Stile Europa League Era una competizione Dove Arrivavano le settime Di ogni campionato E quindi Non era Il massimo E quindi Que la